and they want the slow and that that's totally fine that's still a very very good build because we're going into pen and we know can't take stride breaker we need to think of other ways that we can get that movement speed and if we take him jungle jungle smite is relatively low cooldown and it also has the slow the blue version we can very frequently io avrei messo il predator a sto punto qual predator ci sta benissimo appunto per questo motivo qua bene cioè l'ha praticamente detto dice il problema che darsi è lento qua col predator massacro proc nimbus cloak it'll give us ghosting and move speed and we can just run people down for a couple seconds the speed that you get from nimbus cloak is actually anche perché è buono per gankare anche perché è buono per gankare appunto il predator essendo che tu sei dario se l'unico modo che hai per fare un gank decente che non sia a prendere l'nemico alle spalle che magari sotto la tua torre quello di correre addosso e grabbarlo quindi usare il predator vado così ma sì vet loading time è vero è stato molto veloce devo dire più del solito vale cry fottiti nel del vuoto tanto non serve a un cazzo in che vinci la partita perché hai giocato bene se non hai farmato poco chi se ne frega anche perché il farm è importantissimo ma il concetto sapete qual è il farm è importantissimo a livelli più alti perché la gente sa stallare il game magari dice vabbè abbiamo una comp che scala quindi stalliamo e farmiamo il problema che anche a sto eloqua tipo la gente gioca vain e si lamenta se perde l'early game contro un altro adc aggressivissimo aff abbiamo perso cazzo sei vain a un certo punto iniziare a right cliccare sciogliere il team nemico o vladimir si lamentano che perdono l'early game che cazzo volete scusa volete dei champion immortali ah tipo con vain vladimir cosa fai stalli e fa armi così che deve essere vai tirami l'attacchino che mo ti triggeri i minion no perché i minion non li attaccano se li attacca a me un po' più strani questi minion attenzione dai ma l'avevo anche previsto chi me l'avrebbe fatto però non ho doggiato mannaggia sta hitbox cicciona un minion potete attaccarla perché se io attacco prima con misfortune c'avevo i minion tra un po' che mi seguivano fino in base ma era dura miss armi stiamo attenti che c'ha l'ignite questa oi fregata 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 e stregata che f***o flashing knight guarda un po' chi c'era nostro amico allora build beh io direi una bella rocket belt ovviamente per non farci mancare mai nulla me già è ovviamente d'obbligo anche il cosmic non sarebbe così tanto male non che ci faccia chissà quanto comodo il cooldown redaction però in generale ma posso muovermi da queste parti ricordatevi chat l'insegnamento che vi ho fatto nel tutorial di jacks ap qual è la nostra win condition con singed contro un ranged anzi con un melee contro un ranged è quella di saltargli addosso perché ranged contro un melee ranged perde quando appunto vai in range quindi il nostro obiettivo sarà prendere subito momentum speed il liandre no non one shot il nostro obiettivo sarà prendere subito momentum speed purtroppo non vuole i soldi per le scarpe che ovviamente saranno magic pen ma questo già voi lo sapete singed non ha un braccio si e regge lo scudo con il braccio vedete c'è il braccio tiene così e lo scudo sopra attenzione lux è triggerata c'è un nemico l'omissa bene che facciamo la persona più paziente del mondo era quel volibear ecco qua basta la mia di pazienza però è finita forse non serviva all'uso dell'ignite però ce l'avevo io andrei verso il drago fossi in te eveline così per dire sai c'è volibear c'è la botlin consiglio che do sì ok a posto a posto anche questo prendiamo volentieri grazie grazie delle kill le prendo molto volentieri attenzione non demorde è lei è lux il ranger walker texas ranger è tornato incarnato in lux questa volta ok scarpe hai tutte le kill del team va benissimo minchia potevo farmi direttamente il magiae qua è però cazzo il magiae è lo so è lo so che c'ho la taglia be very careful singed grazie per avermelo detto adesso starò attento grazie per avermelo detto che devo stare attento allora tanto in top lane la ult era un po' esagerata avevo paura di non riuscire a raggiungerla vabbè sti cazzo è per flexare per flexare che noi possiamo sì ci sarebbe stato un bel magiae oh no oh no ecco qua ma sui nel mio sono scappato per oh no ecco tattarà 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 prendo il magiae ok mi sarebbe piaciuto finirmi questo prima del magiae dai finisco questo poi il magiae dopo c'è ok le stack però mi è utile visto che da quel ho capito questo è un team con il quale bisogna scazzare che se io mi spengo spengo un attimo il cervello è finita non avrei dovuto aspettare mezz'ora se non mi avesse preso la kill allora beh gli altri non hanno neanche mezzo item great ap duo ma di cosa sta parlando vabbè adesso jazoo è il mio nemico ne sono molto contento hanno swappato ADC e mid laner niente looks ragazzi non esiste amma mia ma lei non c'è mai per prendere gli obiettivi devo fare tutto io vabbè basta loro hanno swappato ADC e mid laner noi swappiamo mid laner e jungler ecco fatto faccio tutto io tranquilli adesso mi serve andare a refullarmi un attimo top sta prendendo il cazzo malamente molto bene adesso lo vado a prendere io questo ah si rides ti diverti eccomi qua ecco fatto arrivederci eh ma dove è andato dove è andato vai a bullizzare qualcun altro c'ha mezzo oggetto neanche mezzo oggetto meno di mezzo oggetto e da oh prendilo un pochino di veleno bravo uffete windwall così il gas non passerà si che non necessita del mana di base potrebbe anche necessitarne ma nel momento in cui i nemici muoiono appena ti toccano il gas nemmeno più di tanto lascialo stare cos'era quel flash così per riposizionarsi andiamo a prendere il magiai subito immediatamente questo è il game da magiai assoluto proprio game da magiai assoluto questo flash per spaventare mi sono molto spaventato grazie sai Kenny per il sub benvenuto a Felix Army bello grazie mille devo killare no ho già killati tutti a posto giampietro già sappiera cheating ma pure singhede non scherza ma cosa forse la sta facendo Evelyn ci sta ma dove vanno vabbè bella per sta double kill nel senso bella per sta double kill la prendo molto volentieri la prendo molto volentieri ragazzi ma dove stavano andando non ho capito che hanno fatto vabbè Naced grazie di sette mesi bentornato a Felix Army ragazzi mi piace il contenuto abbonatevi gratis colperemo pagando 4,99 non ve ne pentirete ma come ma come fa scusatemi come fa un Vladimir a perdere così tanto contro un raid cioè sono due champion da late due mage a distanza devo punzecchiarsi il nostro Vladimir sta letteralmente prendendo un cazzo grosso come una casa boh non lo so meglio così comunque peccato per la T1 avrei voluta io ma ce ne faremo una ragione l'animo ce l'ha duro l'ho visto in tantissimi video potrebbe essere C-Rides a prendere il blue buff oppure l'ha già preso potrebbe essere posso fare qualche agguato forse eh bruuuum oppala preso ciapeto non c'è il nostro amico Rides secondo me è qua sotto no son morto no son vivo ok cos'è se l'aspettava cioè si aspettava sto dive ma chi è Udini Udini ragazzi era già consapevole di quello che gli sarebbe accaduto 136 di fa beh questo qua non è Iron mai nella vita 130 di farm è dura che li facciano in 30 minuti figurati in 15 ho però l'anchillato dai buono sì sì Rides smurfa allora è meglio ci sarà un po' di sfida visto che gli altri 3v3 3v2 3v1 chi offre di più chi offre di più ma i team mi spiace ah lui vuole sorrendare ho capito però però vai entra nel gas morta comunque eeeh ai 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 sì comunque è particolarmente bravo sto Rides è solo bravo a farmare capito Jirus particolare ecco molto particolare leone nervoso sei mesi bentornato a Felix Army bentornato bentornato e looks ha finito le scarpe mamma mia ragazzi condoglianze condoglianze già un inizio ah sì assolutamente eeeh oh quel tipo in top lane cosa fa è pazzissimo ma è completamente fuori di testa non è più in top lane Cristo devi aggiornare la pagina clicare sul tasto condividi Vladimir ti ha evitato per cosa per la build fa bene un'ottima build diciamo non è proprio il massimo per lui nell'horizon eh però guardate qua che danni che fa il mio gas eh ma che cazzo io mi sono why you even try ma che cazzo che nomi da bm proprio solo q slayer sono main vain main yaso main lissin eeeh e chi più ne ha più ne metta tre rocket belt è forte oh oh S no ci sono entrato come un idiota ma è due coglioni sta bene ah vabbè qualcuno a farsi killare c'è arrivato l'importante è questo è che la Banshee mi pesa il culo a Banshee mi pesa il culo eh il parino sta giocando perché è un gioco con lui ma lui non ci gioca lol lo ripudia fa schifo per lui è il gioco più brutto del mondo con la community più brutta del mondo Rabadon ovviamente sì ovviamente sì ma sta giocando stradamente evidentemente ci ha ripensato non è più il gioco peggiore del mondo c'è una nuova notifica mickey grazie del prime benvenuto a perixarmi mickey benvenuto tuk dopo giochi a fortnite certo un attimo che lo scarico oh poverina tu hai rubato la wave come faremo adesso ah sì vi prendo vi prendo vi prendo vi prendo vi prendo tutti vi prendo tutti dove siete mostratevi infastidiskely come si deve niente raid raid 6-2 proprio kda player raid si si e niente 7-2 dai raid non puoi dire che è solo bravo a farmare giros cioè o è parcheggiato per qualche strana macumba che gli han fatto a sto elo però c'è chiaramente non è niron come gli non puoi metterlo a paragone con lux e seraphim che mi entrano nel gas e muoiono grazie nebb per i 14 mesi bentornato a una felixarmi bentornato ha uno pgg di merda ok ok ci sta o magari veramente non lo so sfigato della serie che il destino proprio non vuole che salga lui è bravo ma becca tutti i game come questo che è appena beccato hanno surrendato magari una buona partita beh non lo so non saprei oddio devo pendere corre su uno ma è ora della mia barretta proteica eh che cazzo honor boh su ento piatti sto honor e via 1803 ha finito un oggetto ha finito un oggetto lux buttalo un po via via